Ciao a tutti! Hello everyone! Benvenuti a questo Inglese Facile. Io sono Sadala Cook e sono qui come una missionaria. Io sono canadese, quindi io parlo l'inglese come madre di lingua e oggi io voglio spiegare un po' di alcuni modi di dire. Quindi un modo di dire che è molto comune in inglese è we are on the same page. In italiano letteralmente questo significa siamo sulla stessa pagina, ma questo non ha senso per niente. È più come siamo d'accordo, come quando tu fai una decisione con qualcun altro e tu vuoi sapere se siete d'accordo. Are we on the same page? Un altro che noi usiamo è every once in a blue moon. Questo è un po' difficile. La traduzione sarebbe più come, letteralmente come ogni luna blu, ma questo non ha senso. Per voi sarebbe ogni morte del papa. Quindi every once in a blue moon, ogni morte del papa. Come un evento che succede soltanto una volta, non molto spesso. Un altro piccolo è mettersi nei panni di qualcun altro. Per noi questo sarebbe walk a mile in their shoes. Come quando tu hai un'esperienza e tu vuoi che le altre persone possono capirti. Come walk a mile in my shoes. Metterti nei miei panni. Grazie per questo tempo. Noi facciamo questo gruppo di inglesi gratis ogni martedì e giovedì sera, dalla 19 fino alle 20. Via Wezzano, 11 C, scala D. E poi, alla prossima! Noi facciamo questo gruppo di inglesi gratis ogni ora.